Mandi a tutti e benvenuti in tal canale Ecolinguist. Io ho il nome Michele, ho soi furlano e ho soi a stare in un paese dove è Gorizze. Gorizze è la terza città dal Friul e è logata proprio sul confine Genfri, Italia e Slovenia. Di me sti, ho soi un operatore linguistico e ho accettato con la lingua furlane in te amministrazione pubblica e ho tenuto anche qualche corso di lingua furlane per gli adulti. Ho la passione di storie, di lingua, anche di tecnologie e di videogiochi di una volta. Ho soi colì con due fantassi, una fantate che ho fatto per il spagnolo, ma che sono di tre paesi differenti. Ho soi colì per vi ho detto troppo che arriverò a capire se ho fatto per il furlane e loro per il spagnolo. Ho cererai di far capire 6 parole, fevelante e dante indici per furlano. Loro poteranno farmi domande per il spagnolo. Ai fin, ho scriverin su un svei la parole che ho hai ceruto di far induvinare, e ho vedarin se i fantassi sono arrivati a capire. Allora, takin con le presentazioni. Ok, hola, buonas a tutti, mi nome è Nicolás, sono docente di idioma spagnolo come lingua extranjera, principalmente mi piace insegnare a japonesi, perché è la mia seconda lingua, e sono studiante di licenciatura di lingüistica in la Facoltà di Humanità in Montevideo, Uruguai. Hola, sono Blanca, sono di spagnolo, di una città piccola nel nord, si chiama Miranda di Ebro, però ho vivito in Edimburgo, in Escocia, per 9 anni ora. Qui sono professora di spagnolo e i gli idiomi sono miei spagnoli. Solo parlo inglese e spagnolo, però mi piacerebbe ampliar questa lista. E, sì, vabbiamo a vedere come si mi fa il furliano. Bene, e dopo, par ultimo, il più conosciuto è Isidro. Hola, che tal? Io sono Isidro, sono del centro di Mexico. Sì, si chiama Guanajuato, l'estado, la città capitale, tambien si chiama Guanajuato. Ensegno spagnolo in italki e, tambien, sono appassionato delle lingue. Bene, allora, ho tagliato con la prima parola, due. Ecco il primo indizio. Allora, In tanti paesi non si puoi sdoprar in tanti luoghi pubblici. Se tu le dòpris d'oggi di un frutto o di una femmina, che spieta un frutto, tu sei una vore maleducata. C'è un po' di un frutto, per impiare, non ti puoi sdoprar. è un po' difficile a ver entendi baño, dici qualcosa relacionato con il baño no sobre transporte público no può essere che sia algo che facciamo algo che facciamo no, un ojet Nicolás, tu tambien entendiste algo sobre escupir si entendi lo mismo dijiste, mencionaste algo sobre en todos los países o en algunos países en algunos no, ho detto in tanti paesi come stas come Italia, España México è un paese non si puoi non si puoi doprar quest ojet in tu luca pubblica come in place o in te fermate dal autobus perdon, perdon dijiste in lugares pubblicos no in transportes pubblicos si non si puoi doprar nanti su un autobus o su un taxi o... non si puoi comprare doprar non si puoi impiar non si puoi disfrutar vale, vale non si puoi disfrutar en lugares pubblicos no si puoi disfrutar porque non si puoi usar non si puoi llevar si è possibile ma se tu lo facis all'ecuintri dell'ecch e tu sei anche maleducato e poi si è anche pericoloso per esempio in cina all'ecuintri che stodiet che stodiet è... este obgetto tiene una funcione verda? qual è la funcione di questo obgetto? è un... per tante int per tante persone è un vizio un vizio è un vizio è un vizio che fa male è un vizio male penso è un vizio questo obiettivo dice alla chiarte è caro? no sono più qualità sono che costano poco che costano tanto si può comprare in cajas si e funziona con il fuoco ah esatto mi parche abbiamo capito allora penso che possiamo scrivere la idea è più complicato è più complicato di quello che pensavo sì io anche allora tre due un perdone no Isidro tu hai sbagliato come? la tua parola non è giusta è... Nostra parola non è giusta è diversa è diversa perché Nicola e io abbiamo messo con le cigarrini il cuore per il polano si può dire spagnolo spagnolo o spagnoletto spagnolo spagnolo il primo significato è una persona di Spagna come il gentilizio di spagnolo però anche quel che si fume è un spagnolo sì? in serio? sì sì perché gli spagnoli vivono per taz dell'America e qui di no oh vale tiene sentito perché? è un pizzo male vale, ma è culturale, è storico bene, allora andiamo in denanti con la seconda parola allora, anche qualche lì è un oggetto è un imprezzo che ha il covente parla una barriera un tipo di barriera e questo oggetto può fare due braccia ma anche nessuno si può invidare però dopo lo viene di tirare sì è un oggetto è un oggetto hai due braccia sì lo usi e lo tirare sì sono più tipi un più comun senza vita e poi si tirare sì un tipo comun lo usas e lo tirare sì 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 è un oggetto, vero? sì Nicolás ha tu qualche idea? può usare può usare nel corpo? no mi ha ordinato no puoi ripetare la prima pista, per favore? Michele sì è un oggetto che al covente par già va un tipo di barriere che è questo? un tipo di... no, no sé un tipo di... è un oggetto è un oggetto per cucinare no direttamente no però se tu sei da ora a cucinare poi puoi diventare è un tipo di... è un contenedor no no però si dobra con contenidors wow no sé Nicolás se utilizza per limpiar? no, no, no se utilizza per... poner cose puoi mettere non per mettere ma per llevare per llevare per llevare puoi usare questo nel supermercato anche? no no non mi ha ordinato perché è un oggetto pensi che stava in questa direzione come una borsa sì anche era mio obiettivo però non a me si mi sono ci sono 3 cose che erano un tapabocas o una servilletta e poi una borsa però sono perdita allora qualche dom per fare un po' di scena così invece di doprar questo diet lo sostituis con una espada soprattutto in qualche ristorante di luce di zing di sior magari oppure se tu vuoi come fati vio di tu tu puoi ottenere il stesso risultato con una espada ok questa parola mi suena a espada viene in pares no 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 viene in pares è un oggetto solo non sono due sì sì no dommi un di beso ok perdona hai detto che se puoi usare o che se puoi incontrare in ristoranti di luce no ho hai detto che per ottenere il stesso risultato in tanti ristoranti di un certo livello adopren una espada al post di questo diet però questo diet per solito si adopre per llevar alc che ha fatto di sud può essere di sud può essere di sud di plastica o di metallo di latte nulla è perdita è la cucina è non se voi Isidro Nicolai entendete anche la parola espada sì 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 entiendo espada però che hai detto qui che in un restaurante puoi riempare questo obietto con una espada un cuchillo un cuchillo è sì 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 è quello che ho pensato perché è così affilato però sì 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 se non si può ecco ventin dos mangi per doprar questo diet con tu tu tenis la roba che tu hai diventato con che altre tu invidi e dopo tu tiris dios mio e dopo tu puoi bevi quel che l'è dentro del contenidore sono di color blanco generalmente sono di due color due color sì sì è stato pensato però può essere totalmente desencaminata no 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 che stai pensando tutti lo abbiamo in nostra casa sì 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 in cucina per soli in un cassetto lo usiamo per come no per bere per bere per bere vale e questo psetto tiene 2 manos 2 brazos 2... sì sono modelli che non ha il braccio però l'immagine più comuni ecco di che che ha il due braccio quando tu hai sed e tu vedi per bevano sai un e birra tu vas in cucina tu chiedis la birra e ti comenta questo diet senza questo jet non tu viaggis la birra quindi questo è un però piensa in un contenedor di bebida penso ora, sto encaminata, perché l'ha detto birra non è il contenitor è un jet che il covente per viaggis il contenitor dios mio, questo è tan difficile stai sicuro che questa realtà existe in altri paesi si, si, si pensavo che eravamo più similiari il idioma se sono bottiglie o vieni questo jet alle lo jet al covente per viaggis la bottiglia la funzione di questo obgetto è destapare la bottiglia eh sì, prima le siarate dopo tu dopis lo jet alle viaggis e sì, puoi bevi buon provi, provi a provare provi a scrivere vediamo Nicolà si tu hai scritto sì sì, buon tre, due, due, uno sedo che è questo? abri latas abri latas non sai alle calcolare che scrive Nicolà? prima pensé in un destapare che c'è? bajitas bajitas perché come era descartabile pensi che era per bere oh sì ragazzi 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 realmente è sacacorchos sì sì, è un sacacorchos questo sì, perché la cerveza con un destapador la vera conquista qui c'è il vino no? per forlain però si clama sempre diavestropi ducidai e per spagnolo sono due parole differenti sì quindi i braci sono questi che tu stai mostrando no? sono che che tu tu invidi e lui alzare il braccio sì 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 il tapone il salto di fuori sì in tutti i dibuji di sacacorchos c'è la cabeça e i due braci che ci sta che ci sta no? è che credo che la meglio in lugar di cerveza abbia ha tenido che decir vino no? una botella di vino o sì dijiste una botella di vino Michele? no, no ho dice velato di bire perché per forlain a lei compaigne llavesropi e llavesropi è lo mismo para él vale perché para nosotros io puse abrelatas che è solo para la cerveza para il vino è tenemos otro nome che è sacacorto almeno in España in México il abrelatas è solo le latas come il che le dà la volta e va corriendo e il destapador si è per le botellas sì che cualquier cosa può funzionare come destapador un encendedor le mani il ultimo cellulare i dimenti i dimenti i dimenti exacto exacto allora niente con la prossima parola la terza si va con la difficoltà no 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 dices allora c'è un altro ogget c'è un ogget che può essere piccolo ma anche grandono al covente per limitar la libertà è piccolo questa roba per solito è un tet oppure puoi fare quartutis o anche più di una quartuta per solito anche altri buzotti dove si mette il mangià e il bevi per cui che sta dentro non so vedo qualche idea non so perché al principio entendì cosa per limitar la libertà voi anche le prime piste sono molto facile può essere piccolo o può essere grande cosa cosa come e bebe Sì, perché se no c'è dentro il muro, c'è là di mangiare e di bere. Se questo è grande, è un lavoro grande, si può sdoppare perché si era dentro una persona, qualcuno che ha combinato anche di male e per solito questo è il fatto di tanti elementi mettere in parallelo. Ah, sì, sì, sì. Ah, credo che sì. Oppure con una red... Tidro, aiúdanos! Ora si è un... può essere qualcosa in cui puoi mettere qualcosa dentro, e ha barras. Sì. E quindi, in questo senso, limitano la libertà di quello che sta dentro, no? Sì, exacto. Quando è grande, puoi usare per mettere criminali, no? Sì. Sì. Se ha le pizzo, tu metti, non sai, un canarino. Ah, un canario. Un pampagall. Un canario. Sì. Vieno già capito, vieno a scrivere. Provengo a scrivere. Sì, vieno a scrivere. Vieno a scrivere. Un canario. 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 a lei stess. È una professione popolare oggi in dia? Non ho capito. Poi tu ripeti? Si. È una professione comune? No. Nel momento presente? No. Non è mai stata una professione comune, però per solito in ogni paese piccolo è arrivato a me. In queste città sono arrivati di più, ma per solito in queste comunità piccoli è arrivato a me. Per solito non le vedo tanto bene. Perché c'è un po' di... come si può dire? No, per iudizi, insomma, ma diciamo che tradizionalmente realizzate fa con un argomento che non piace, però prima o dopo tutti hanno bisogno di lui. È una persona che fa qualcosa di relacionamento con magia? No, non ho capito. Con? Ah, no, 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 con la magia. Con la magia no. No, no, no. Usa tijeras? No. No, no, no. Principalmente il manco. No, 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 no. È un lavoro, è un lavoro pratico, però è al che è un lavoro pratico, è un lavoro pratico, è un lavoro pratico, è un lavoro sensibile. è un lavoro pratico, è un lavoro pratico, è un lavoro pratico. che si può essere. A ver, tutto il mondo necessita di lui. O tutto il mondo ha necessitato di lui. È difficile rispondere a questa domanda. è un lavoro pratico, perché stava pensando che era un filosofo. non, 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 non. Oh, però facendo questa lavoro, è un lavoro che ti fa pensare tanto sulla vita e sulla morte. già, 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 già. È un tipo di terapeuta, psicologo? No, 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 non. È permittato avere una famiglia per lui? Sì, sì, sì. Non è un sacerdote. No, 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 no. ma è un lavoro pratico, è un lavoro pratico, è un sacerdote, sì, con il prez. Con il sacerdote, sì. Si vedono un sacerdote. Che? Può essere un sacerdote o la lavoro di… No, no, però, se potresti dire che è un prez, è un collega di qualcosa. È un collega più o meno. È un predico? È un collega? È un collega? È un prez per farlo? È un sacerdote, no? Che aiuta, aiuta al sacerdote. Lo puoi aiuta, però… Que la persona che fa questo mister, ha avuto il prez, il prez, quasi ogni giorno. Per questioni di lavoro. Perché il prez e passa il lavoro. Dopo che ha finito il prez e tocca a lui. Lo che io ho capito, è come che dopo che finalizza il lavoro, se lo passa a altro. Sì, no? No? Primero il sacerdote e poi il, o qualcosa di così. Exacto, sì, sì. Però, che… È un… Una persona… Dio mio! Normalmente… Perdona… È una persona… Joven. Ma, può sia sia, 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 sia o, vecchio, non è fondamentale. G..... Questa persona… Questo ungimento di lavoro o mestino viene… Shimortare del cimiterio… Definitely? Dio mio! Allora! Allora… fattoutte… Quo sarà… Sì, sì… È fuori a tutti… Mibieto. È sì… Lo che è lavoro in quel cimbiterio… Di andare è di un contesto che… Sì, sì… Sì… questa persona utilizza una pala come herramienta si si al dopre la pala si per fare le vozes in di di voi magari no al dopre un excavatore però pronto dios mio si si allora per furlanci dice si sta relazionata questa parola con il con il verbo enterrar o la parola è un verbo che significa da un pellizca se tossess vifo mo art in serio in el espanol lo hacemos con la acción de la acción actual ellos es la acción de antes de enterrar si supongo che hai che assegurarsi definitivamente è interessante va continuiamo no allora sarà la siguiente parola si hai venito arriva allora prossima parola parola numero cinque allora quest non è un oggetto altra vez no è un oggetto è una esperienza che tutti i mammifari approvano anche qualche uccelli si puoi fare a voi serate se tu sei strac ma anche a voi ver se tu sei magari innamorato o distrat o se tu hai tante fantasie anche tu puoi fare vecch questa esperienza a voi ver se grazie a questa diclamin la esperienza o podin svolar ma anche colar vedin se hai qualche idea o qualche domanda qualche dubbi puoi ripetirlo tutto per favore no 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 è vero è una esperienza che 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 ti fa una cosa positiva però una cosa negativa si perché è quando stiamo innamorato allora se tu sei innamorato tu provi questo fatto senza dormire si hai dormito puoi dire per me la mia innamorata è così è questa roba è come se io fosse questa però ho hai detto che è una esperienza che ti puoi far provare la sensazione di svolare ma anche che di colare ok questo è quello che ti puoi ripetare quando sei innamorato è qualcosa che serve per provare quando sei innamorato e lo puoi experimentare quando vai a volare no tu lo sperimenti quando ti puoi ripetare per soli questa esperienza quando la provi ci fa movi e voi la poesia è buona o la poesia è anche brutta può essere una esperienza positiva o negativa, vero? sì, sì, sì però è qualcosa che qualcuno fa conscientemente? sì, è una forma particolare di conscienza questo succede mentre una persona dorme sì, esatto sì, sì, è questo sì, sì, è questo sì, sì, è questo sì, sì, ho capito sì, ho capito sì, ho capito sì, ho capito però è il stato è questo stato o è... no, è proprio quello che tu vedis in tanto che tu dormis ah, sì, sì, sì molto bene Nicolà, hai capito? no per ora no allora una persona famosa che aveva quest all'estate è Martin Luther King sì, sì aveva un gran... questo sì capito? capito? provi a scrivere allora no? credo che scrivi qualche cosa però 3, 2, 1 sì, ho capito sognare? sognare la morte è un tipo di morte wow, Nicolà è una piccina morte Nicolà è una piccina morte no, come... no, come... no, come... Martin Luther King pensi... è stato attuale sognare, sì sognare... questo è il sostantivo, no? oh, è il sostantivo, vale è il sostantivo, sì il verbo è insumire o insumire, sì oi, la ultima pista uno può... vuoi volare? qualche... tu asunzione tu puoi svolare o tu puoi svolare o tu puoi svolare ah, caer sì è vero e poi... despiertas moviendoti, no? nel nascimento molto bene bene allora ho sentito la ultima parola la numero 6 che si è che è proprio impossibile e difficilone no, no allora questa è un'attività sempre che tu puoi svolare di persone oppure anche con gli amici o con la famiglia dopo su qualche d'una di queste attività si puoi anche scommettare scommettare anche i bens si puoi scommettare qui che ha il vinc è un'attività che fanno sede i granchi che i frutti e anche i bens tu hai detto che è un'attività che possiamo fare con famiglia e con amici vero? sì o anche di bensol o solo anche vale questa era la mia pregunta sì io necessito ascoltare una volta lo che hai detto puoi ripetare? sì allora su qualche dune di queste attività si puoi scommettare non? soli proprio euro o altri dollari o qualche altra moneda un altro indizio poi se è un passatempo o una attività diciamo è bello di viodi è divertente di viodi per cui che non le sta facendo non le è attivamente dentro a ver puoi fare questa attività per passatempo però anche per... sì questa attività tu guardas junti o coleccionati objetos? qualche tipo di questa attività può essere così sì no sono tanti tanti fatti di questa attività ah, sì ah, sì ah, sì ah, sì ah, sì quindi si haces questa attività a cambio recibes qualcosa è dipente di attività è parte che sono alcuni che per fare questa attività puoi incontrare altri soggetti una bale i dati o non sai qualche materiale intonestate o chiartis aghe però è più comune ricevere qualcosa in specifico no, no no necessitas pagar per partecipare in questa attività? qualche volta sì ma no no non sempre insomma per qualche dune parla via odi tu hai di paia parla via odi la gente che fa questo tipo di attività per esempio quel che stai facendo come è questa attività è una attività interessante che però è un questo ok in questa attività tu obtienes muchas esperiencias conoces muchas cosas o lugares è dipente sì ma anche no sì o no è dipente per esempio se tu fasi questa attività come chiartis no ora ora credo che può essere una parola come generica no sì sta relacionato con il lavoro no con il ocio però per qualche dune può essere un lavoro ma per soli no è lo che haces quando non trabajas sì per soli se non tu se tu fasi quest non tu sei il lavoro anche se qualche dune lo fasi però sì non ci dovresti è lo contrario di lavorare sì però non è un verbo è un sostantivo è un sostantivo quindi fa questa attività per giochi per ridi per stare insieme con gli amici perché non posso pensare in un sostantivo comienza con la letra D intermelengue no per furlando credo che in spagnolo comienza con la letra J mi palabra sì Nicolà però mi palabra è la incorrecta sì però si comienza con J seria un verbo no también existe il sostantivo ah ok sì due tre sì sì gioco gioco perfetto bene sì io puse a disfrutar si sì io credo che si stanno si stanno era una cosa a deporte quando si stanno comienza con D Nicolà è stato il sostantivo per furlando il verbo giochi o gioia sì, io stava obsesionata con il verbo come dijiste lo che haces quando non lavoras disfrutiamo il nostro lavoro per supuesto, credo qual è il sostantivo? che può portarmi all'interno? diversione? io viajavo per tutti i luoghi sì, io anche, Nicolai non era facile questo era un lavoro difficile per sé che è un concetto un lavoro generico però us fassi complimenti usè stas bullo ora non sai se al torno è Norbert forse è al torno bravo però qual Norbert? qual Norbert? il canario o la persona? a casa, a casa bring in the canario you did very well, I think what do you think, guys? it was difficult but sì, I think we managed to find out the words for me, it went downhill I started really well sort of and then it was like boom, 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 boom like, oh my god and totally lost at the end yeah, but you got most of the words right, right? or you were very close with a little help from my friends yeah, absolutely yeah so thank you guys thank you everyone yeah, and Michele you have to explain to us what's the deal with the cow everybody's curious why the cow? yeah there is this like a funny rhyme that says that there was a cow named Victoria the cow has died the story has finished so this is this is the story in Friuli saying inывайтесь poetry die 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 denen die 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 die